Quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui, ricordatevi bene, nessuno ha più l'entrata, guai se lasciate rompere la consegna, adesso andate. Che uom sui settanta è zitto, che non mi senta la sposa, con chi è dir che son lesto ed è importante. Con questo voto un po' è l'iguale. Andiamo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.